Si chiude mercoledì 28 dicembre a Eboli il 2022 Double Fass dell'Ital Service Pesaro che proprio con la Feldi lo scorso giugno aveva vinto il suo strepitoso terzo scudetto consecutivo di Calcio 5. Un paradiso toccato per la terza volta alla quale sono seguiti altri sei mesi dell'anno molto diversi. Vuoi per un ridimensionamento dai livelli massimi per ragioni ormai note, ma dalle conseguenze impronosticabili che oggi producono una classifica da play-out con la quale la squadra pesarese è costretta a convivere dopo 13 giornate in cui si sono racimolati 12 punti frutto di tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Sconfitte che sono attualmente tre di fila in questo complicato mese di dicembre. La squadra di Colini nel match prenatalizio è caduta per 1-2 al Palafiera contro la Sandro Abate in una partita diventata ulteriormente complessa per gli infortuni di Canal Alflen, João Miguel e il turno di squalifica di De Oliveira. Così la Sandro Abate ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Alex, l'Ital Service ha lottato trovando il pareggio sul rigore di Murillo Schioquette al 33esimo, ma è caduta un minuto e mezzo dopo con l'inserimento del portiere di movimento e la rete di Avellino valsa l'1-2 finale. Ora a Eboli ultimo tentativo dell'anno per invertire la rotta. Si gioca mercoledì 28 dicembre al Palasele alle 20.45. Questa volta non ci sarà uno scudetto in palio, ma la sfida fra una fail di sesta e Unital Service 13esima.